Nome Francesca Stefania Soprannome Brambi Tortellona Romagna mia Professione Ombrellina Ombrellina Circuito preferito Barcellona Geret Hai mai guidato una moto? Sì Sì Con risultati disastrosi Da quando lavori in MotoGP? Da quasi due anni Da pochissimo Qual è la parte migliore del tuo lavoro? La griglia Ma stare col team Ridere Stare con Francesca sicuramente E guidare la macchina Andare in giro Un tuo pregio? La simpatia Sono solare Sempre positiva Un tuo difetto La gelosia Dio No ne ho tante però Aspetta Non ho queste grandi doti di guida Così mi suggerisce Franci Un pregio dell'altra L'umiltà Mi fa ridere da morire È una bellissima persona Un difetto dell'altra È veramente una deficiente Perché voi non la vedete Ma sta facendo il veloci raptor Dietro la telecamera È troppo avventata in alcune cose La tua posa migliore La tua posa più intelligente Quanto ci metti a prepararti? Mezz'oretta Mezz'oretta accenni all'acqua Chi viene meglio in foto? Lei Lei Decisamente lei Chi ha più successo nel paddock? Ah, io Lei ha fatto già penso 12 morti Gente con la bava, la bocca E chi più ne ha più ne metta Sport praticati? Nuoto Tanti ma nessuno bene Però vabbè Corsa e palestra Una frase in dialetto Allora tutta poste? Nota rammola mia Puoi tradurre? Allora tutto a posto? Noi non molliamo mai La città dove ti piacerebbe vivere? A Miami Brasile Rio L'uomo più bello del mondo? Lewis Hamilton Johnny Depp Sei fidanzata? Sì No Come ti chiama in intimità? Non lo voglio dire Non mi chiamo in intimità Non ho intimità Gesti scaramantici? Ma direi che non ne ho Cioè a meno non mi vengono in mente adesso L'ultima canzone che hai ascoltato? È il nino caliente È il ramingo caliente Attenzione Prova di conoscenza Quante categorie ci sono nel mondiale? Tre Tre Che velocità può raggiungere una moto due? Una moto due? Tre venti Tre? Trecento? Quattrocentocinquanta È una bastarda Pilota con più mondiali vinti in MotoGP Valentino Rossi Rossi Quante gare ci sono in una stagione? Europee 12 Non europee mi pare 8 12 Dove si corre il GP in Italia? Mugello e Misano Mugello e Misano Dove si corre il GP in Brasile? Che l'avevo detto l'altro giorno Brasilia Brasilia Il GP del Brasile ce lo siamo inventati Come? Chi vince il mondiale? Io spero Valentino Rossi Però sicuramente lo vincerà Marquez Rossi Abbiamo finito Abbiamo finito